Cari amici di Radio Wabishow, sono in una location veramente segreta, pensate in questo posto, non serve la mascherina, però attenzione bisogna fare il tampone all'inizio e alla fine bisogna fare un tampone. Sto aspettando per uscire perché questo venerdì ritorno amici sarò alla diversa insieme a Mr. Danny Sporty che saluto per un grande show, Rock the Night in diretta su Radio Wabishow. Bene amici, io tra poco vado via da quest'isola, vi raggiungo, mi raccomando, venerdì, io ho già le 17 credo di essere lì a montare l'impianto, quindi se volete venirmi a offrire una birra io vi aspetto alla diversa, via del commercio, una traversa di via Maccani, vi aspetto, ci sarà anche Mr. Danny Sporty e tutti gli amici della diversa. Vi aspetto che mi stanno chiamando, a me, a me, esame della prostata, sarà un tampone per il coronavirus, ci vediamo amici, mi raccomando, vi aspetto, ciao, ascolta Radio Wabishow che ti fa stare bene, io vado. Non c'è no, non c'è niente, 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 clicca mi piace nella pagina Facebook.